Il problema è questo, è che sopra ci sta solamente un telo in plastica che dovrebbe fare da protezione, ma io ho fatto le foto ed è scomparsa. Ecco, ora c'è il liquido, non so se sarà la pioggia che non riesce più a penetrare nel terreno, ma comunque c'è ancora liquido. Penso che l'ARPAC che fa questo tipo di attività, almeno rimuovere questo terreno con un escavatore, non lo so, perché qua continuiamo a scendere nel terreno e va ad inquinare anche la falda acquifa. E qua l'altra volta ho trovato a scolare le pecore e chiaramente le pecore mangiano, noi mangiamo le pecore e penso che sia un problema anche per l'alimentazione umana. La nostra amministrazione, che è responsabile della salute dei cittadini, dovrebbe provvedere almeno a delimitare l'aria con delle transenne, ma non con queste cose di plastica qua, a che servono? E l'ARPAC la stessa cosa, viene sul posto, preleva quello che deve prelevare, però i residui restano sul territorio.